Al Via Pescara la 41esima edizione dei premi Flaiano. Si comincia con il Film Festival e poi dal 7 al 19 luglio il Flaiano in piazza il 20 luglio serata finale nella cornice di Piazza Salotto. Si annunciano ancora una volta grandi nomi e una sezione speciale sull'Europa in concomitanza con la presidenza italiana nel semestre europeo. L'entusiasmo non è mai venuto meno. I problemi sono aumentati. Per ora sicuramente la rassegna del cinema ci sarà perché lo stiamo presentando questa mattina. È una rassegna molto ricca che si terrà sia all'aperto nelle piazze, anzi sono aumentate le piazze, ce ne sono due in più quest'anno, e al cinema. È una rassegna ricca anche di retrospettive monografiche ma anche di una sezione dedicata all'Europa perché, come tutti sappiamo, dal 1 luglio al 31 dicembre abbiamo la presidenza dell'Unione Europea, del Consiglio dell'Unione Europea. e avremmo varie iniziative in programma. Ci auguriamo che si possano realizzare, ma questo non dipende solo da noi, ma dipende anche dal Ministero degli Esti, dal Ministero dell'Istruzione e dal Ministero dei Beni Culturali. Il Flaiano rappresenta sempre l'eccellenza a livello culturale della nostra regione. Per fortuna di questo sono convinti gli amministratori della Comune di Pescara, sia che appartengono alla maggioranza che all'opposizione, e questo è l'unico punto fermo in una situazione molto molto precaria, in cui non c'è alcuna attenzione da parte della regione, per esempio, cosa incredibile ma vera, né dagli altri e altre istituzioni.